Torta di carote con mandorle e noci. Una golosa torta di carote arricchita da mandorle e noci, perfetta da gustare sia a merenda che dopo cena. Una ricetta semplice e veloce da preparare, adatta a tutti i gusti. La torta di carote con mandorle e noci è un dolce semplice e nutriente, ideale per tutta la famiglia. Le carote donano alla torta una consistenza morbida e umida e il mix di mandorle e noci una croccantezza unica. Per preparare la torta di carote con mandorle e noci servono pochi ingredienti ed è semplice da preparare. Occorrono 300 g di carote, 120 g di farina 00, 120 g di zucchero, 100 ml di olio di semi, una bustina di lievito, 3 uova, 70 g di mandorle, 70 g di noci, un pizzico di sale. Per prima cosa sbucciate le carote e grattugiatele con una grattugia a fori grossi. In una terrina sbattete le uova con lo zucchero, poi aggiungete l'olio di semi, le carote grattugiate, la farina, il lievito e il pizzico di sale. Mescolate bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Unite le mandorle e le noci e mescolate ancora. Versate il composto in una tortiera imburrata e infarinata e cuocete in forno preriscaldato a 180 per 40 minuti. Fate la prova stecchino, se esce asciutto la torta è pronta. Lasciate raffreddare la torta di carote con mandorle e noci prima di servire.